Bene, inizio, a caso mai ammetterò qualcuno durante il webinar. Allora, benvenuti, benvenuti tutti quanti, grazie di aver accettato il nostro invito. Vedo fra i nomi qualcuno che probabilmente non mi conosce, quindi mi presento, mi chiamo Claudio Rizzi e sono il Product Manager Ingenius all'interno di Alias. Quindi se ci fossero delle richieste, delle necessità, dei chiarimenti, potete tranquillamente rivolgervi a me. La mail la vedete qui sotto in calce. Il webinar di oggi è incentrato sulla piattaforma cloud di Ingenius. In particolar modo vedremo quali sono le nuove funzionalità che sono recentemente state introdotte all'interno della piattaforma cloud. Allora, come al solito farò una brevissima presentazione del brand Ingenius per capire chi è, come nasce e dopo ci adentreremo subito nel tema del webinar. Quindi, introduzione alle feature pro. In particolar modo ci concentreremo più sul MyPSK, quindi vedendo che cos'è e perché è utile utilizzarla. Affronteremo un po' il discorso della visualizzazione topologica estesa, gestione degli alert. Al termine del webinar vi farò una piccola demo direttamente sulla piattaforma dove vedremo effettivamente dove sono state introdotte queste funzionalità, come funzionano e quant'altro. Allora, cercherò di essere brevissimo in questa fase ripetitiva, comunque doverosa. Per chi non conoscesse Ingenius vorrei fare la premessa iniziale, quindi per capire come nasce il brand. Parliamo quindi della Senao International, che è una nota società fondata nel 1979, attualmente quotata alla Borsa di Taiwan, dove è operativa come filiale della telecom taiwanese. È anche l'operatore storico di telefonia mobile a Taiwan, dove attualmente possiede oltre il 50% delle quote di mercato nella distribuzione di telefoni cellulari. Senao è umanamente riconosciuta a livello mondiale, quindi come tra i migliori produttori di apparati radio e per questo motivo produce e poi distribuisce il proprio hardware ad altri brand affermati del tipo Cisco Meraki, Hero Web, Sonicle, ma anche molti altri che non sto ora a citarvi. Nel 2006 Senao diventa Senao Networks e decide quindi di creare il proprio brand ed è in questo momento che nasce effettivamente Ingenius. Ingenius conta oltre i 1200 dipendenti e si avvale quindi di tre centri di ricerca e sviluppo dove operano circa 300 persone che progettano, testano, producono tutti gli apparati che poi vengono immessi sul mercato. Mi soffermo spesso su questo concetto perché è importante sapere che tutta la tecnologia di Ingenius nasce all'interno di Ingenius, quindi non si avvale di componentistica di terze parti, tranne ovviamente per i micoprocessori. Diciamo che Ingenius è presente in Europa con la sede principale situata in Doven, ma comunque ha delle sedi dislocate un po' in tutto il pianeta, quindi in Canada, negli Stati Uniti, Dubai, Singapore e ovviamente anche Taiwan dove c'è la sede principale. Allora con la propria offerta Ingenius si rivolge a un target abbastanza esteso, quindi si va dal mondo consumer fino all'enterprise, quindi con aziende di piccole dimensioni fino anche a multinazionali, quindi dalla piccola media impresa che vuole creare un'infrastruttura di rete senza dover necessariamente cablare l'ufficio per arrivare fino anche ad esempio a strutture molto più grandi tipo strutture alberghiere. Magari le strutture alberghiere sono interessate a offrire delle connessioni internet ai propri clienti. In generale parliamo di ambito hospitality, quindi hotel sì, ma anche ristoranti, B&B, bar, dove la connettività svolge un ruolo cruciale, quindi occorre che sia sempre di ottimo livello perché c'è rischio di essere eventualmente oggetti di critiche per aver creato delle insoddisfazioni poi ai clienti. Un altro ambito è sicuramente quello medicale, quindi un settore in notevole crescita, dove è sempre maggiore il numero di apparecchiature, di sensori che funzionano attraverso, scusate ammetto, quindi che funzionano attraverso le reti Wi-Fi, in questo senso Ingenius presenta a catalogo dei dispositivi certificati proprio per l'uso in ambiti medicali, ovviamente dove sono richiesti. Un altro ambito di utilizzo per gli apparati Ingenius è quello scolastico, quindi immaginiamo un istituto, un campus, dove centinaia di studenti accedono alla rete simultaneamente, quindi per accedere a contenuti multimediali e quant'altro. Questo accesso solitamente avviene in maniera simultanea, intensa, costringendo le attuali connessioni, parliamo quindi di Wi-Fi 5, a operare al massimo di quelle che sono le prestazioni per garantire insomma la gestione di tutto il traffico. In questo caso la tecnologia Wi-Fi 6, che è presente su diversi modelli di Access Point Ingenius, aiuta a fornire delle soluzioni che rispondono anche a queste particolari esigenze di alta densità. Bene, terminata quindi la parte di presentazione, entriamo un po' nel merito del tema oggetto del webinar di oggi, quindi che sono, come vi dicevo, le nuove funzionalità Pro. Allora, tratteremo in particolar modo la funzionalità MyPSK, che è, come vi dicevo, è sicuramente la funzionalità più interessante, ma Ingenius sta costantemente sviluppando nuovi strumenti e nuove funzionalità che vengono rese poi via via disponibili sulla piattaforma cloud. Le funzionalità Pro implicano la sottoscrizione di un abbonamento per poter essere utilizzato. Attenzione però, vorrei essere molto chiaro su questo aspetto. La piattaforma cloud è gratuita e solo le funzionalità Pro richiedono la sottoscrizione di questo abbonamento. Quindi questi strumenti Pro sono un qualcosa di contorno, qualcosa in più. La piattaforma può essere comunque utilizzata normalmente senza l'obbligo di sottoscrivere alcun abbonamento. Chi ha già avuto modo di utilizzarla potrà continuare a farlo senza sottoscrivere assolutamente nulla, quindi captive portal, gestione VLAN, reporting, configurazione degli SSID. Tutto il resto resterà e continuerà a essere comunque gratuito. Solo le funzioni Pro richiederanno l'abbonamento. Le funzioni Pro tra l'altro si distinguono dalle altre tramite il tag che potete vedere anche nella slide accanto al nome della feature. Al momento è possibile utilizzare le funzionalità Pro gratuitamente. Nel senso sono in modalità demo. La roadmap prevede il pagamento della sottoscrizione entro il 2022. Al momento non hanno fornito, Inginus non ha fornito né una data precisa, ma neanche una quotazione economica. Quindi appena ci verranno comunicate sicuramente ve le faremo avere. Allora, parliamo della MyPSK. Allora, questa funzionalità è intimamente connessa alle VLAN. Quindi per ragioni di tempo, e anche perché comunque ci vorrebbe un webinar dedicato solo o esclusivamente alle VLAN, assumo che le configurazioni delle VLAN siano già state fatte. Se volete però approfondire proprio il tema delle VLAN, sul partner portal di Inginus è disponibile la registrazione di un webinar che affronta specificamente, anche in maniera molto approfondita, proprio il tema delle configurazioni delle VLAN. Allora, il concetto di base di questa funzionalità è che a ogni client può essere assegnata una VLAN per accedere a diverse risorse, anche all'interno dello stesso SSID. Quindi si rimane all'interno della stessa VLAN in tutta la rete, indipendentemente dall'SSD associato. Per esempio, docenti e studenti accedono alla stessa rete Wi-Fi, quindi allo stesso SSID, ma comunque verranno assegnati a delle VLAN diverse. Quando poi si accede allo stesso SSID, ogni client avrà una sua PSK, una sua password, che sarà essa determinata, quindi associata e determinata a una VLAN in base ai privilegi che sono stati proprio definiti per quel determinato client. Scusate, ammetto. Quindi, come vi dicevo, Inginus Cloud fornisce questo servizio che si chiama MyPSK che assegna automaticamente una password personalizzata a ciascun client su una rete Wi-Fi. Ognuno riceve una password univoca per il proprio uso personale. Quindi con MyPSK si può creare fino a 500 password univoca per ogni SSID. Quindi MyPSK consente di creare queste chiavi e ad ogni chiave è possibile assegnare una qualsiasi delle diverse VLAN che abbiamo deciso di creare e che quindi poi consentiranno ad un insieme specifico di risorse di essere condivise, quindi stampanti, database e gruppi di collaborazione. Domanda. Non consideriamo MyPSK, ma è possibile che il traffico generato da un client connesso a un determinato SSID viaggi all'interno di una determinata VLAN? Vi do subito la risposta che è sì. Quindi io posso definire una regola per quell'SSID e dirgli che tutto il traffico che esso genera viaggia all'interno di una determinata VLAN che ho predefinito. Però lo ribadisco, al momento è possibile associare solo una VLAN per l'intero SSID ed è qui che c'è la sostanziale differenza introdotta con MyPSK. Il risultato è che se volessimo frammentare il traffico su più VLAN per condividere o nascondere determinate risorse di rete dovremmo necessariamente creare un SSID diverso per ogni VLAN che ho deciso di utilizzare. Con MyPSK abbattiamo questo limite, aumentiamo di fatto la flessibilità della nostra configurazione passando da una regola globale, quindi definita sull'SSID ad una regola definita sul client. Quando utilizzare MyPSK? Quali sono gli scenari dove ci sono dei reali vantaggi? Sicuramente gli ambienti ad alta densità sono l'ambito d'uso che ha più riscontri, quindi scuole, hotel, centri congressi, musei, ma anche aziende dove c'è la necessità di segmentare la rete in maniera molto molto particolarizzata. Ipotizziamo uno scenario non impossibile, ad esempio un istituto scolastico, dove è plausibile che ci siano delle regole per gli accessi alle reti Wi-Fi basate sugli effettivi privilegi di ciascun utente, quindi senza MyPSK avremo un SSD dedicato agli studenti, un SSD dedicato ai docenti, uno dedicato al personale amministrativo, laboratori, ospiti, insomma, è abbastanza plausibile che i diversi tipi di accesso possono anche crescere, quindi quello che verrebbe naturale fare è, come vi dicevo, creare un SSD per ogni singolo privilegio, però a questo punto io vi pongo una domanda, sapete quanti SSD si possono gestire all'interno di una network in Ingenius? Se qualcuno lo sa lo scrivo nella chat, vi lascio veramente 15 secondi. Ecco, c'è una risposta, ma di fatto Massimiliano no, sono otto, quindi all'interno di una network io posso attivare fino a un massimo di otto SSID, dopo magari nella demo questa cosa vi sarà più chiara quando lo vedremo direttamente sulla piattaforma. Questa situazione porta sicuramente a dei limiti, perché in linea di principio potremmo avere anche più di otto WLAN da gestire, quindi utilizzando MyPSK possiamo creare un solo SSID e quindi gestire tutti i client segmentando il traffico in base alla PSK che andremo poi a fornire ai clienti. Ai client, scusatemi. Ci sono tre vantaggi che derivano da questo tipo di approccio. Uno ovviamente è il fatto semplice, come ne ho parlato finora, quello di poter segmentare in maniera più libera la rete utilizzando comunque un SSID. Questo porta sicuramente a costi inferiori per quanto riguarda i costi di amministrazione delle reti. C'è un SSID solo, è anche più facile da gestire. Con MyPSK è possibile generare in maniera automatica le password, fino a 50 password alla volta, quindi sicuramente l'amministrazione di questo tipo di approccio semplifica sicuramente il lavoro. In seconda cosa, è possibile anche stabilire una data di scadenza per quella determinata PSK. Ad esempio, si può consentire agli studenti di accedere alla rete del campus una settimana prima delle lezioni fino a una settimana dopo la fine del semestre. Oppure, si può consentire agli inquilini di accedere alla rete del complesso di appartamenti nel quale risiedono fino alla data di scadenza del contratto di locazione. Ecco, tutto questo sicuramente viene, vi dà dei gradi di libertà superiori. Durante la demo comunque, che farò il breve, vedrete chiaramente con quanta semplicità come si impostano i parametri di questa funzionalità. Un'altra feature recentemente introdotta su questa, devo dire la verità, c'è ancora poca documentazione, comunque volevo giusto farvi capire qual è il concetto di base parlando sempre di ambienti ad alta densità, quindi parliamo di stadi, università, auditorium, quindi dove ci sono enormi folle di persone con vari dispositivi, quindi laptop, desktop, tablet, smartphone, e via dicendo, che si connettono alla rete. Anche quando l'ambiente è grande, i dispositivi sono molti, gli utenti comunque desiderano spostarsi liberamente all'interno dell'ambiente, ma comunque senza perdere velocità o interrompere la connessione. Quindi qual è il problema? Centinaia, anche migliaia di dispositivi che tentano di accedere a una rete contemporaneamente possono fra virgolette intasare i server. Immaginate ad esempio il primo giorno di lezioni in una grande università, dove docenti e studenti cercano di connettersi alla rete del campus. I server di HCP devono lavorare in maniera molto intensiva per assegnare continuamente gli indirizzi PI client, oppure quando si verificano dei broadcast flooding o dei broadcast storm, come vengono chiamati, che si verificano quando i pacchetti di broadcast e di multicast inondano la rete, di fatto rallentando e degradando quelle che sono le prestazioni. Ecco, questa BCMC suppression che, come dicevo, è una funzionalità di gestione avanzata della rete, consente di limitare l'inondazione dei pacchetti di dati non necessari sia nelle reti cablate che nelle reti wireless. In particolare, come funziona? L'ottimizzazione misura l'attività di trasmissione a intervalli di un secondo e confronta tali misurazioni con una soglia preconfigurata. Se viene raggiunta la soglia, l'attività di trasmissione aggiuntiva, ovviamente su questo tipo di traffico, viene soppressa fino all'intervallo successivo. Quindi, l'ottimizzazione BCMC sopprime temporaneamente le trasmissioni quindi sulle reti cabrati e sulle reti wireless di conseguenza aumenta quelle che sono le prestazioni. Visualizzazione topologica avanzata. Questa è un'altra funzionalità pro. Come vedete il concetto di visualizza la tua network è abbastanza spinta in Ingenius quindi con questa funzionalità è possibile vedere proprio in maniera grafica lo schema della propria rete con l'inserimento della funzionalità pro c'è la possibilità di ottenere informazioni anche su dispositivi di terze parti quindi anche dispositivi non Ingenius quello che si riesce eventualmente a vedere sono i nomi del dispositivo l'indirizzo MAC l'indirizzo IP quindi anche eventualmente di altri di altri apparati molto utile se vi trovate a lavorare su una rete che è già diciamo già pronta e comunque dovete andare a estenderla ecco che questo strumento vi aiuta sicuramente a capire quello che è lo schema lo schema della rete e vi facilita anche nella configurazione bene allora io ora mi sposto sulla piattaforma allora accedo e vediamo un attimo in pratica quello di cui vi ho parlato poco fa allora primo fatto come vi dicevo come si attiva la funzionalità pro in basso a sinistra trovate il simbolo dell'inventario la prima voce è inventory e licenses se vado su licenses posso switchare fra modalità professional e modalità basic ok quindi è molto 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 semplice e in questo momento è anche gratuito quindi lo potete tranquillamente provare senza alcun tipo di costo ovviamente il portale è monttenant quindi cosa significa che io posso avere all'interno del mio account posso avere più clienti e alcuni clienti possono avere la funzionalità pro attiva altri no quindi se io mi sposto ad esempio su prova come vedete è sparito il tag pro vuol dire che per questo tenant non è disponibile la funzionalità le funzionalità diciamo professional adesso si è perdonatemi ho fatto un errore io ecco qua niente andiamo qua mi sposto perdonate ma ecco allora sono siamo tornati nel mio tenant che sarà oggetto poi della demo attuale vi faccio subito vedere anche quest'altra funzionalità pro di cui non vi ho parlato che si chiama backup e restore prima non era possibile effettuare il backup delle configurazioni delle reti quindi se si faceva delle modifiche per fare delle prove si doveva comunque appuntarsene servarsene diciamo esternamente in questo caso io posso posso farlo quindi definire un backup cosa ho scritto ecco e mi viene richiesta qual è la network che devo salvare definisco la mia rete wifi è l'unica che ho qua dentro se do apply ecco ho creato il mio backup per questa determinata network di cui posso fare il restore posso rieffettuare il backup posso anche bloccarlo ok come vedete ecco è l'unica rete wifi che ho andiamo in mypsk che è la parte più interessante allora nella configurazione dell'SSID come vedete io qui ho preventivamente creato 8 SSID quindi se dovessi crearne un nono non lo so magari laboratorio 3 il tag add SSID è oscurato e quindi non posso di fatto creare un ulteriore SSID ok dovrei per forza cancellarne uno quindi questo è un po' il limite di cui vi ho parlato prima ma io potrei tranquillamente utilizzando mypsk potrei tranquillamente cancellarle tutte lasciare semplicemente un SSID che io chiamo istituto in questo caso per semplicità quindi accedo al mio SSID nella parte di sicurezza attivo vpa2 psk e come vedete sotto posso attivare mypsk mypsk come parametro ovviamente mi richiede un database di utenti che posso definire sulla piattaforma adesso vedremo dove ma posso anche utilizzare un server radius esterno ok fatto questo se applico ovviamente attivo la funzionalità mypsk users che sarebbero questi posso gestirli qui dentro anche questo come vedete è indicato come funzionalità pro quindi io avevo precedentemente creato questi utenti posso aggiungerne anzi facciamo così vediamo li cancelliamo bene posso crearne uno semplicemente magari la password definita per tutti gli utenti quindi la chiamo proprio password senza spazi la chiamo password studenti che parametro mi viene richiesto la VLAN io come vedete ho già creato le mie VLAN e ho definito una VLAN dedicata espressamente agli studenti che è la VLAN 200 posso definire una data di scadenza se volessi farlo e vado poi a dire qual è l'SID che sfrutterà questa PSK per dare l'accesso in questo caso abbiamo definito istituto perché tutti gli altri a questo punto non ci servono applico e ho creato la mia password che posso dare agli studenti anche a tutti quanti e accederanno tutti quanti con la password studenti e verranno veicolati nella VLAN 200 se devo crearne di più simultaneamente lo posso fare semplicemente dando auto generate definisco dieci password tutte diverse ok magari non lo so per i docenti in questo senso ok ed ho adesso io non ho creato una VLAN per i docenti ma chiamiamoli amministrazione ok sempre nel mio ssid istituto do semplicemente applica e automaticamente mi vengono create 10 PSK che fornirò ai miei docenti ok quindi entreranno con queste credenziali e tutti verranno veicolati all'interno della VLAN 100 questo è un po' il concetto il concetto di base è veramente molto molto semplice si possono avere fino a 500 PSK diverse oltre la quale purtroppo è obbligatorio andare a creare un ulteriore ssid ultima cosa che volevo mostrarvi era l'alert allora anche qui come vedete c'è un tag pro la funzione del tag di alert consente quindi a chi è l'amministratore di questa determinata network di ricevere informazioni sullo stato della rete nel qual caso se parliamo degli access point ricevere informazioni se alcuni dispositivi vanno offline per 5 minuti oppure se si verificano determinati eventi tipo warning o error attivando la funzionalità pro posso essere informato anche se ci sono dei cambiamenti alla configurazione di rete sugli switch abbiamo qualche cosa in più sì se lo switch va offline per 5 minuti sì se si verificano dei warning o degli errori ma come prima se ci sono delle modifiche alla configurazione della rete se ci sono dei cambiamenti di stato sulle porte dello switch se ci sono degli eventi legati allo spalling trip protocol e degli LBD quindi abbiamo c'è la possibilità di avere qualche informazione in più ecco bene al momento altre funzionalità non ci sono è stata recentemente introdotta il WPA polling però per il momento non non ne parlerò perché non c'è ancora abbastanza documentazione per poter per poter darvi una spiegazione abbastanza esauriente niente io direi che con questo posso terminare la mia presentazione se avete se avete delle domande ovviamente potete tranquillamente farmele in questo momento senza problemi sono qui apposta altrimenti comunque potete rivolgervi potete rivolgervi a me ecco per chi è per chi è entrato un po' in ritardo io vi ho ammesso comunque sarà sarà disponibile comunque per tutti per tutti per tutti la registrazione di questo webinar quindi lo potete rivedere tranquillamente successivamente e se vi venisse vi nascesse qualche quesito o qualche qualcosa che volete approfondire volete chiedermi io sono sempre disponibile alla mail che vi ho indicato prima e che vi riporto di nuovo così potete eventualmente appuntarla se c'è qualcosa potete tranquillamente scriverla in chat rispondo a una domanda è necessario prima configurare le VLAN per usare MyPSK giusto sì perché nel momento in cui io vado a definire i miei diciamo le mie PSK il mio set di credenziale di accesso mi viene richiesto su quale VLAN quella determinata password verrà associata ecco che se io non ho creato le VLAN di fatto potrebbe essere potrebbe essere ripeto sono funzionalità estremamente recenti non questo potrebbe portare a qualche a qualche errore di fatto ma io le ho testate ho fatto delle prove comunque empiriche qui e funziona tutto come dovrebbe quindi sì sicuramente se non ho la VLAN non ho non ho il tag VLAN da associare alla PSK ci possono essere dei problemi cioè non avrebbe neanche senso utilizzare mai PSK in questo senso comunque Massimiliano se vuoi approfondire ne parliamo dopo diciamo one to one non vedo altre domande sì diciamo che il webinar è molto estivo quindi è abbastanza leggero questa volta non ci sono particolari particolari cose quindi forse non c'era morta carne al fuoco va bene io se non ci sono domande vi vi lascio liberi di tornare al vostro lavoro sappiate sappiate che sono sempre disponibile la mia mail è quella che vedete lì vi ringrazio di aver partecipato a questo evento il prossimo lo faremo a settembre ovviamente agosto andiamo tutti in ferie speriamo e quindi non ci sarà l'evento di agosto e ci risentiremo a settembre quindi se avete comunque qualcosa che volete approfondire io ve lo ripeto sempre se c'è qualcosa che vi interessa sapere mi contattate e se vedo che comunque c'è la possibilità di poter realizzare una sessione dedicata magari a qualcosa che è di interesse comune lo faccio va bene buona giornata a tutti quanti grazie ancora e alla prossima